Tutto cambia, nulla resta come prima, questo ci insegna l'evoluzione. Tu invece non cambi mai, eh? Giovese Pichella, con le coliche, prossimamente sul D-UX. Carrelli, transpallet, scaffali, soppalchi, avvolgi pallet o materiale per l'imballaggio, sono queste le parole che ti ossessionano in questi giorni. Tutto logistica.it, carrelli ed attrezzature per il magazzino. Quando è nato Leonardo non l'abbiamo neanche potuto toccare. Non era il bambino che ti aspettavi perché era pieno di tubicini. Leonardo significa forte come un leone e Leonardo è così. Leonardo ha la sindrome di charge, deve essere aspirato continuamente e la mamma lo nutre con una siringa infilata in un tubicino. Non sente e vede solo da un occhio il suo unico contatto con il mondo. Eppure, grazie a tutti i professionisti della Lega del Filo d'Oro e all'aiuto di persone come te, Leonardo può costruire giorno per giorno il suo futuro. Chiama ora all'800 13 03 74 o vai su unmondodisi.it. Con 9 euro al mese donerai a Leonardo la possibilità di vivere come un bambino e non come un paziente. Ogni volta che vado a riprendere Leo alla Lega del Filo d'Oro lo trovo sempre cambiato, come se riuscissero a sbloccargli un livello per andare avanti. Chiama all'800 13 03 74 e dona 9 euro al mese. Il futuro di tanti bambini come Leo è nelle nostre mani. Tutti insieme possiamo donarglielo. Leonardo è tutto, è la gioia per ogni progresso, per ogni segno in più con cui lui riesce a comunicare, che per me è come se avesse scalato un monte. Chiama all'800 13 03 74 o vai su unmondodisi.it. Bastano 9 euro al mese.